Ciao a tutti ragazzi, io e Piccettino oggi vi parliamo di un prodotto diverso dal solito, ovvero del Tex Stella d'Oro numero 33, uscito il 17 settembre 2021 al prezzo di 9,90€. Che cos'è? Beh, è il cartonato alla francese che ci racconta un'avventura particolare di Tex. E ragazzi, partiamo subito dal formato, 50 pagine a colori ben fatto, davvero molto bello al tatto, molto imponente anche come dimensione, questo è il mio faccione, vedete quanto è grosso, non il mio faccione, è il volume, ed è davvero soddisfacente da tenere in mano. È qualcosa che, sì, mi piace, come idea mi piacciono, da quello che c'è stato di serpire in poi, mi sono sempre piaciuti. Ma, 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 qui abbiamo un piccolo ma, la copertina. Allora, la telecamera non lo fa vedere benissimo, e poi il disegno è molto bello, ma l'effetto dal vivo mi dà un po' di sfocato, di fastidioso, come se avessero preso un'immagine e l'avessero tentato di ingrandire senza guardare la risoluzione, o come se si volesse riportare un effetto foglio ruvido con l'acquerello, ma forse non è venuto benissimo. L'Uomo della Morte, Snakeman e compagnia briscola, non so, l'effetto che mi dà è quasi fastidioso di questa copertina da guardare, ma, ripeto, non è il disegno brutto, anzi, il disegno è molto bello, è proprio l'effetto di copertina, questa sfocatura, non so come, di pixelosità di fondo, non so come spiegarlo, ragazzi. È un effetto che ha dato a me. Mi sono confrontato con molte persone, qualcuno ha avuto più o meno la stessa sensazione, qualcuno ha detto di no, quindi è proprio a sensibilità. A me ha dato questo effetto che non è molto gradevole, ve lo posso garantire. Però, però, però il disegno è veramente bello e appoggiato in un'edicola spicca da bestia, lo vedete subito, tra la grandezza e il colore spicca tanto. Il disegno poi è veramente bello, cioè è molto dettagliato, abbiamo text in versione Uomo della Morte, quindi sì, text c'è in copertina, solo che non è il text che ci ricordiamo noi, anche se pesca a piene mani dalla tradizione Gianluigi Bonelli. Quindi, per tutti coloro che, ah, non c'è text in copertina, che brutto, arrogo, no, c'è, e c'è addirittura un text che pesca nella tradizione. Quindi, per me, ci siamo. Entriamo, cioè, guardate, adesso cominciamo, scusate, adesso cominciamo ad aprire il volume, guardate che roba esce. Solo, aprendolo così, già vi sentite ripagati dei 9,90€, bellissimo. Sì, si nota l'assenza di Kit Carson, non ci sarà per tutta la storia, ma, ragazzi, è bella così. Ovviamente abbiamo un po' di informazioni generiche e legali della Bonelli, e poi abbiamo una bella presentazione di Davide Bonelli, molto interessante, molto ben scritta, veramente interessante. E partiamo dal punto forte, i disegni di Enrique Breccia. Scusatemi, ma veramente mozzafiatante. La telecamera non rende la meraviglia, guardate, disegni fantastici, un effetto veramente meraviglioso. Tavole che galleggiano nel caldo, in mezzo a questo deserto, con questi colori magnifici, ogni tavola, veramente, anzi, ogni vignetta, è un potenziale quadro. Non si va a lesinare neanche nel realismo, come potete vedere, perché comunque si vedono le torture, cioè, è veramente mozzafiatante da vedere, un disegno fantastico. Breccia ha uno stile unico e inconfondibile, ragazzi. E' vero, si discosta un po' dal text classico, dal text canonico, ma, ragazzi, è un qualcosa di unico questo, vengono fatti apposta così. Io vi posso dire che, wow, guardate che bella. Anche, il text è riconoscibilissimo, il kit è riconoscibilissimo. Guardate che bello, anche questo qui che è praticamente un flashback, non voglio sfogliarvelo tutto, ma ogni tavola è uno spettacolo. Guardate qua. C'è la mia telecamera, non rende la giustizia di tutto quello che state vedendo. È veramente da ammirare. Aprire, ammirare. Non leggetelo subito, ammiratelo, sfogliatelo. Guardate, anche cadendo a caso, aprendo a caso l'occhio, perché veramente è, wow, davvero, mozzafiatante. Ogni singolo centesimo che avete speso, ogni singolo momento di attesa vi darà soddisfazione per gli occhi. Questo è davvero cibo per gli occhi. E chi se ne frega dello spoiler, ragazzi, ma l'ultima tavola è qualcosa che da sola vi ripaga lo spirito, vi ripaga tutto. Meravigliosa. Davvero meravigliosa. Io non ho altro da aggiungere. Un capolavoro. Punto. Davvero. da leggere, conservare, sfogliare anche solo per il piacere di buttare gli occhi in una qualunque delle vignette, neanche tavole vignette che trovate qui dentro. Chiude il tutto, una po' di biografia degli autori, che sono ovviamente Enrique Breccia ai disegni e Mauro Boselli ai testi. Beh, il testo di questa storia è un qualcosa che, ragazzi, si può raccontare una bellissima storia in 50 pagine. È una storia particolare. È una storia in cui Tex è un po' sul filo dei ricordi. Si trova in quei momenti un po' malinconici. Insomma, ci sta ogni tanto anche Tex ha diritto di essere malinconico, di ricaricarsi, di andare a cercare un po' se stesso nei luoghi della sua felicità con la sua amata. Probabilmente assistiamo o non assistiamo al concepimento di Kit, credo, però è molto bello, molto etereo, molto romantico tutto quello che vediamo. Boselli è bravissimo a calibrarsi perfettamente nelle pagine e nella narrazione. E poi, vabbè, assistiamo a questo Snake Man, che chi è, cosa fa, lo scopriamo. Vediamo anche un Tex che compare e aleggia, perché a un certo punto sparirà, così come a un certo punto sparirà anche Tiger, anche se Tiger è un po' più avanti. E vedremo che Tex riesce a essere Tex anche quando non c'è per molte pagine. Il suo spirito, la sua ricerca, la sua voglia combattiva è presente al mille per mille. E tra l'altro, una cosa molto bella, io normalmente non sono mai stato un grande, non ho mai fondato il Fans Club per Keith Wheeler, anzi, ho sempre trovato... Scusate. Ho sempre trovato Keith Wheeler, fino a tossire a dirlo, un personaggio non... non così ben delineato e non così neanche utile ai pardo, un po' una fotocopia sbagliata del padre. Qua, ragazzi, Boselli riesce a tratteggiare un Keith Wheeler che spicca, che ha carattere, che si muove in poche pagine. Davvero. Qua io, forse una delle poche volte che ho visto Piccolo Falco, essere davvero protagonista e consapevole dei propri mezzi. Cioè essere un personaggio. Non all'ombra del padre, all'ombra dello zio acquisito, all'ombra di Tiger. No. Un personaggio. Anche Tiger, devo essere sincero, fa davvero il suo... la sua grande figura. E... la scelta di riportare un vecchio travestimento di Tex, che già conoscevamo, abbiamo già visto e se ne è già parlato, è interessante. Soprattutto perché senza entrare nel meta fumetto, nel fumetto fantasioso, senza entrare in nulla, Boselli riesce a unire queste credenze indiane, fondamentalmente, all'interno di una storia che è comunque realistica. Cioè ci può stare qualcosa che potenzialmente potrebbe essere successo. Cioè sarebbe potuto accadere così. Bravissimo Mauro Boselli. Non servono 10.000 pagine per raccontare una buona storia. Serve una buona idea o più di una qua dentro per raccontare immagini. Quindi le due cose si sposano in maniera incredibile. Abbiamo un minimo di cringe strappalacrime verso la fine con pagina 47 e quella finale che vi ho fatto vedere. Ma ci sta. È proprio bilanciato all'interno di questa narrazione. Cosa posso dirvi se non andate in edicola e compratelo. Una cosa così non si vede tutti i giorni. Ma non su text. In generale. Davvero un volume da avere. Perché anche se non sapete leggere ve lo giuro sfogliatelo sorprendetevi come ho fatto io emozionatevi come ho fatto io e poi se lo leggete tanto li ho guadagnato perché ne vale anche la pena di essere letto. Comunque davvero 9,90 euro non spesi investiti per la vostra anima fantastica. Grazie a tutti.